Ci siamo, vogliamo iniziare Appena iniziato il 2021, quindi bentornati ad una nuovissima puntata di Tessilan Condivision E quindi Tessilan ha ben pensato di farvi fare un bel viaggio, molto figo secondo me Aspetta se mi deve stare a nutire? No Ok, vai Splash Bla 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 Devo anche affrettarmi prima che cada questa meravigliosa piramide Questo misto cotone poliestere L'avevo detto Ci riproviamo? Già, perché i pro... Allora ho detto, trovo una cadenza gambana che mamma mia, fermati Io oggi mi festeggio Paradise Oppure perché no anche dei copricuscini e dei pro... di vendente no ok a posto io sono andrea fiori rosa fiori di pesco ma quale purtroppo andiamo a vedere ti è piaciuto questo ma soprattutto una cosa in particolare di seguire tutte le nostre rubiche seguire le nostre rubiche mannaccia rubriche io sono sandra ciao a tutti io desiderare un fila no vai ci sono anche ad aglio c'era riuscita stavi andando bene sandra perché mi impappino e non so non ci riesco giriamo un altro giorno un velato molto a me quasi vede il filo e insomma io ve l'avevo detto che questa di oggi non sarebbe stata una puntata normale infatti non parleremo di tutorial non parleremo di progetti questa sarà una puntata speciale perché l'ultima puntata di tessilan condivision prima delle vacanze estive ovviamente tessilan condivision riprenderà a settembre ma tutto il resto continuerà ad esserci tessiland come sapete già c'è infatti continueremo con i tessilan news continueremo con i riassortimenti continueremo ad evadere gli ordini regolarmente continueremo con l'assistenza tutto continuerà come sempre stato con tante novità che poi avremo modo di analizzare insieme nel dettaglio proprio a partire da settembre ma qualche anticipo ci sarà già nelle prossime settimane quindi mi raccomando seguiteci quindi da parte mia di tutto il team tessilan davvero quindi da parte mia e quindi da parte mia e di tutto il team tessilan quindi io e tutto il team tessilan non possiamo fare altro che augurarvi una buonissima estate non prima però ovviamente di aver visto i saluti finali vediamoli un po e che dire io vi saluto ricordo come sempre di commentare qui sotto il video di iscrivervi al nostro canale youtube come sempre vi dico di mettere un like se vi è piaciuto di iscrivervi su tutti i nostri social come abbiamo detto all'inizio ma di seguirci come appunto abbiamo accennato prima anche sul nostro blog quindi www.megliadimaglia.com alla prossima puntata ciao